Siamo giunti alla fine di questi tre giorni, devo dire tre giorni molto intensi e al di là dei numeri delle delegazioni estere con oltre 120 partecipanti, al di là delle varie visite di operatori internazionali, la conclusione che possiamo trarre è che comunque un po' di vitalità c'è in questo comparto. C'è una voglia di ricominciare, c'è una voglia di ripartenza e il nostro obiettivo di festeggiare le 50 edizioni è un obiettivo che serve non solo a celebrare la grande famiglia Assomac e il Simac Tannintec, ma serve anche a dire che ci siamo e che le nostre tecnologie sono le tecnologie più all'avanguardia. Anche quest'anno sono ritornato a visitare Simac Tannintec, un appuntamento importante a cui vengo volentieri in tutte le occasioni in cui è presente. Abbiamo visto delle macchine all'avanguardia, delle aziende di prodotti chimici con molto personale formato, soprattutto in ricerca di nuove possibilità di prodotti, di materie prime. Sono rimasta piacevolmente colpita dal livello di tecnologie presenti e soprattutto allo sguardo verso la sostenibilità che è un passo che bisogna assolutamente fare ormai nel 2024. Grazie a tutti! Appuntamento alla prossima edizione di Simac Tannintec 2025 e poi dopo vedremo che cosa inventarci di ancora più bello e attrattivo. Grazie a Simac per essere con noi questo anno, spero che ci saranno qui l'anno prossimo per vedere cosa è nuovo. Grazie a Simac e ci vediamo l'anno prossimo! Grazie a Simac e ci vediamo l'anno prossimo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!